Allora, l'argomento di oggi, come avete visto, è alcuni personaggi della famiglia Herschel, che ha dato il suo contributo all'astronomia a cavallo fra la fine del 1700 e la prima metà del 1800. Ecco, parleremo in particolare di William Herschel, che è stato tra l'altro lo scopritore di Urano, del pianeta Urano. Parleremo di sua sorella Carolina, Caroline, detta la tedesca, che è stata sua fila assistente, ma che è anche prodotto autonomamente delle scoperte in astronomia. E poi del figlio di lui, il figlio di William, John Herschel, che ha dominato un po' poi la prima metà del 1800. Ecco, mi soffermerò un po' di più, chiaramente, su William Herschel, perché è stato l'iniziatore, insomma, di questa saga familiare. Ecco, è nato ad Hannover il 15 novembre del 1738, quindi lui era, era un tedesco, era di lingua tedesca, infatti il suo nome originale è Friedrich Wilhelm Herschel. È nato da una famiglia abbastanza modesta. Il padre si chiamava Isaac, la madre Anna, Anna Ilse Morizen, e questa coppia ha avuto, tra l'altro, dieci figli, solo sei, però sono sopravvissuti in età adulta. Wilhelm era il quarto figlio. Subito, diciamo, nell'infanzia e nell'adolescenza, il padre ha voluto che i suoi figli avessero una istruzione. Pur se la famiglia, come dicevo, era modesta, perché il padre faceva il giardiniere e suonava l'oboe nella banda della guardia di Hannover. Quindi, quello lui ci teneva moltissimo, a differenza forse della moglie, ma il padre ha voluto insegnare intanto a tutti la musica. Sembra, forse solo la primogenita non si sia appassionata alla musica, ma gli altri sì, gli altri figli. E poi hanno avuto anche un istruttore, un tutore di famiglia, probabilmente un amico di famiglia, che ha instillato un po', ha insegnato a questi ragazzi le lingue, in particolare il francese, e la matematica. Quindi, questi ragazzi, come prima, diciamo, in istruzione di base, hanno, come dicevo, la musica. Il nostro Wilhelm impara a suonare l'oboe, dal padre, ed entra a soli 14 anni nella guardia, cioè nella banda della guardia di Hannover. A quel punto, suo padre era proprio il direttore della banda. Ecco, nel 1755, questa banda viene trasferita in Inghilterra, perché allora regnava in Inghilterra Giorgio II, che era un prussiano, e che aveva appena annesso l'elettorato di Hannover all'Inghilterra. Per cui questa banda parte un po' così, per insaldare questi legami, fanno dei concerti, ma devono però tornare abbastanza presto, perché l'anno seguente, nel 1756, inizia la guerra dei Sette Anni. Una guerra lunga, sanguinosa, che è durata appunto fino al 63, che vedeva contrapposti due schieramenti. Il regno di Gran Bretagna, assieme al regno di Prussia, all'elettorato di Hannover, ad alcuni stati minori della Germania, nord-occidentale, e dal 62 si unisce il regno del Portogallo. I contendenti erano gli odiati francesi, il regno di Francia, la monarchia asburgica, il sacro romano impero però rappresentato praticamente solo dall'elettorato di Sassonia, l'impero russo, la Svezia e la Spagna, che anche lei si unisce quando entra in guerra il Portogallo. Come dicevo, sono stati sette anni piuttosto pesanti per questi contendenti, con varie battaglie, e poi il tutto si è concluso con degli accordi bilaterali fra i vari contendenti. Ha avuto la meglio la Gran Bretagna, ha avuto la peggio la Francia, che ha dovuto cedere il Canada, le terre a ovest del Mississippi, altre terre, mi sembra, nelle Indie, e la Spagna, dal canto suo, ha perso la Florida, quindi è stata una bella battosta. Bene, nel secondo anno di guerra c'è stata una famosa battaglia vicino ad Hannover. Come dicevo, la guardia di Hannover era stata fatta rientrare per difendere la città. Ecco, la battaglia è stata ad Astenbe, che è proprio vicino ad Hannover, si sono fronteggiati i francesi e la guardia di Hannover. La guardia di Hannover ha avuto la peggio, i francesi hanno vinto la battaglia. Nelle retrovie della guardia di Hannover c'erano i due fratelli, Wilhelm e il fratello maggiore, Jacob Herschel. Fortunatamente loro hanno lavorato nelle retrovie e non hanno subito conseguenze, però il padre si è preso paura di questa cosa e entro la fine dell'anno li manda tutti e due, questi due maschi, in Inghilterra, li fa espatriare. Jacob, tra l'altro, che era il maggiore, aveva ottenuto un regolare congedo dalla guardia di Hannover. Wilhelm non ce l'aveva fatta, essendo più giovane era ancora in età da soldato e quindi rimarrà disertore fino al 1782, quando Re Giorgio III lo grazierà. Comunque niente, loro partono. In Inghilterra, la prima cosa da fare è imparare l'inglese. Loro forse si erano preparati meglio in francese, comunque approfondiscono, specialmente Wilhelm, in breve tempo diventa padrone della lingua, cambia subito il suo nome, lo inglesizza, no? Si fa chiamare Frederick William Herschel, quindi da Friedrich Wilhelm diventa Frederick William. Ecco, come sbarca il Lunario? Suonando. Lui è capace di suonare l'oboe, aveva imparato il clavicembalo, per cui, diciamo, si dà da fare per entrare in qualche orchestra, fare concerti e soprattutto fare anche l'insegnante di musica. Nel 61, lui aveva 23 anni a quell'epoca, si trasferisce nel nord dell'Inghilterra, a Sunderland, perché lo scrittura un famoso compositore, un certo Charles Evison, che gli offre il posto di primo violino nella Newcastle Orchestra, quindi è un posto di privilegio, insomma. Vuol dire che sapeva anche suonare bene, insomma. E niente, lì fa un'annata, perché la scrittura era per un anno, poi dal 61, non so cosa ha fatto negli anni seguenti, ma arriviamo al 65, quando un ricco signore di Halifax lo desidera come organista di quella chiesa, la St. John the Baptist Church. E poi, l'anno seguente, si trasferisce a Bath, nel sud-ovest dell'Inghilterra. Siamo nel 1766, dove diventa direttore dei concerti pubblici e maestro di cappella. Ecco, direte, qui di astronomia ancora non se n'è vista. Niente, possiamo citare anche di Hershey il fatto che ha scritto, è stato un compositore, ha scritto ben 24 sinfonie. Questa che vedete, la sinfonia numero 8 in do minore, è quella che è stata considerata la migliore. Ha scritto anche alcuni concerti. Quindi, insomma, si stava facendo strada a livello musicale. Nel 1772, a quel punto aveva 34 anni, viene raggiunto a Bath la sua sorella Caroline, che aveva 12 anni meno. viene raggiunto per fare, in pratica, la domestica, la donna di casa, la casalinga, la governante di casa. Prendono alloggio in questa abitazione, che oggi è il museo della famiglia Hershey. Questa casa. Qui è una stampa più antica, dove probabilmente ci fa vedere com'era nell'epoca quando loro ci sono andati ad abitare. ecco, nel retro, no, niente, ok, quindi siamo nel 72. Nel 73 c'è la svolta epocale della famiglia, sì, della famiglia Hershey, perché parliamo di fratello e sorella. Il buon William trova, pare su delle bancarelle, dei libri di astronomia e di ottica. e ne ha una sinfatua, veramente, perde la testa. L'astronomia, insomma, gli comunica molto, si informa moltissimo, però si rende conto che per osservare il cielo gli serve un telescopio. Non c'era Amazon allora, non era così facile avere un telescopio, te lo dovevi costruire. E lui, grazie ai libri di ottica, impara a costruirseli. Ecco, questo per esempio è una riproduzione del suo primo telescopio da 160 mm di diametro che usava proprio nel retro della sua casa, lì, in New King Street, a Bath. Ecco, lui era convinto, praticamente, che essendo molto bravo, era un musicista, a riconoscere le notte sul pentagramma, questo gli avrebbe giovato nella ricerca, diciamo, delle stelle nel cielo, quindi a riconoscere i gruppi stellari con molta facilità. E inizia, inizia, praticamente, la, così, l'osservazione del cielo che vedrà, lo vedrà poi il 17 agosto del 1779 fare la sua prima scoperta, diciamo, da astrofilo, perché non è un astronomo, no, a quell'epoca. scopre che la stella polare che tutti conosciamo, ma nessuno ci aveva guardato bene, è una stella doppia, è una stella doppia, quindi è una prima scoperta che, tra l'altro, lui comunica alla Royal Society e gli viene riconosciuta. Oggi sappiamo che la stella polare addirittura contiene tre stelle, è un gruppo, diciamo, triplo, la terza stella, però, è molto difficile da osservare, è stata scoperta a livello spetroscopico soltanto nel 1929, 27, 29 e solo nel 2006 il telescopio spaziale è riuscito a metterla in risalto, a risolverla in poche parole. Niente, questo giochino qui della stella doppia della stella doppia della polare gli dà lo spunto per indagare il cielo alla ricerca di altre stelle doppie. Come sappiamo oggi le stelle del cielo almeno la metà sono doppie o multiple e lui in effetti dopo poco tempo pubblica un primo catalogo questo del 1782 con 269 stelle doppie o multiple che lui ha catalogato, quindi ne ha determinato la posizione, la posizione angolare della compagna, eccetera. poi fa un altro catalogo nel 1984 con altre 434 stelle e poi più tardi nel 1821 completerà l'opera, la sua opera portando a 848 il numero di stelle da lui individuate e catalogate. ma facciamo un passo indietro il 13 marzo del 1781 una sera questa sera lui si trova nel retro della sua casa col suo telescopietto da 160 mm di diametro e nota in cielo un oggetto che è un po' strano perché all'aumentare degli ingrandimenti questo oggetto si allarga voi direte che bella scoperta se aumento gli ingrandimenti si deve allargare però come sanno gli astrofili non è così per le stelle le stelle sono puntiformi viste al telescopio per cui se io aumento gli ingrandimenti la stella mi rimane un punto quindi quello che lui ha visto non poteva essere una stella e scrive anzi l'impressione di aver scoperto una cometa anche se non vede molta coda insomma non gli sembra di vedere la coda cioè capisce che questo oggetto se si ingrandisce è più vicino delle stelle e quindi rientra nel nostro sistema solare scrive un saggio account of a comet e lo manda alla Royal Society dopo più di un mese l'astronomo reale un certo Neville Maschelin gli risponde non so come chiamarlo è tanto probabile che sia un pianeta regolare che si muove su un'orbita quasi circolare intorno al Sole quanto una cometa che si muove su un'ellisse di grande eccentricità non sono ancora riuscito a osservare alcuna sua chioma o coda in poche parole osservandolo nell'arco di un mese si vede che questo oggetto si sposta lentamente e segue parrebbe seguire un'orbita circolare o quasi circolare attorno al Sole Herschel non gli basta si rivolge anche ad altri astronomi un certo Anders Lexel e poi il più famoso Johann Hellerdode entrambi hanno lo stesso parere di Maschelin cioè gli dicono per noi potrebbe effettivamente essere un pianeta alla fine lui si convince e scrive dalle osservazioni dei più eminenti astronomi in Europa appare che la nuova stella che ho avuto l'onore di porre alla loro attenzione nel marzo del 1781 è un pianeta primario del nostro sistema solare a grande scoperta finora l'umanità conosceva fino a Saturno quindi conosceva sei pianeti attorno al Sole ecco che se ne aggiunge un settimo al di là dell'orbita di Saturno ha il colpo di genio di chiamare questo di nominare visto che lui è lo scoprittore lo chiama Georgium Sidus ovvero l'astro di Giorgio in onore di re Giorgio III d'Inghilterra è stato un colpo da maestro perché effettivamente il re si inorgoglisce lo vuole conoscere e addirittura gli propone di abbandonare la carriera musicale che comunque gli stava dando soddisfazioni per fare esclusivamente l'astronomo e l'avrebbe stipendiato per questo e lui accetterà il nome però di Georgium Sidus non ha molta storia perché i francesi assolutamente non ne volevano sapere a cerimi nemici dell'Inghilterra per cui i francesi lo chiamano inizialmente pianeta Herschel e poi diciamo la comunità internazionale forse trascinata un po' più dei francesi lo chiamerà Urano con la tradizione di chiamare i pianeti con personaggi mitologici Urano era praticamente la personificazione del cosmo del cielo del cosmo c'è anche un rovescio di medaglia però Urano nella mitologia è stato anche un omicida nel senso che ha ucciso alcuni suoi figli perché aveva paura che gli rubassero il potere sull'universo però un figlio superstite Crono si vendica l'Oevira ce lo ricorda qui ce l'ha ricordato Giorgio Vasari in questo dipinto la mutilazione di Urano da parte di Crono che è al palazzo vecchio di Firenze ecco forse i francesi ci hanno un po' messo lo zampino insomma quello che doveva essere l'astro intitolato al re d'Inghilterra è diventato intitolato un evirato insomma in poche parole niente questo puntino è l'immagine che possiamo avere ai nostri telescopi quindi probabilmente è quello che ha visto Herschel quando ha posto l'occhio quella famosa sera ottenendo questa vedendo questa immagine questa invece è l'immagine un po' più ravvicinata ce l'ha regalata il Voyager 2 il 24 gennaio del 1986 il colore azzurro è dovuto a una forte presenza di metano vediamo qualche dato velocemente qualche dato fisico il suo diametro è di 51.118 km quindi il rapporto alla Terra è più di 4 volte come diametro ed è il terzo come dimensioni del sistema solare dopo Giove e Saturno Nettuno che verrà scoperto più avanti avrà un diametro leggermente più piccolo la sua densità media è superiore a quella dell'acqua 1,271 ma è inferiore a quella di Nettuno per cui Nettuno pur essendo leggermente più piccolo pesa di più la temperatura a questa distanza dal Sole arriva a meno 218 gradi centigradi un bel freddo la sua distanza dal Sole nel suo movimento ellittico attorno al Sole quando è vicino al Sole cioè al perieglio arriva a 2,741 miliardi di chilometri in ore luce è circa due ore e mezzo vuol dire che la luce riflessa da Urano torna al Sole in due ore e mezzo è un bel percorso ecco quando invece è alla feglio la sua distanza dal Sole supera i 3 miliardi di chilometri il suo periodo di rotazione è abbastanza veloce cioè ruota su se stesso in 17 ore 14 minuti e 24 secondi però il suo tempo di rivoluzione attorno al Sole è di ben 84 anni è lontano e quindi più ci allontaniamo dal Sole e più i corpi si muovono lentamente ecco curioso è l'ultimo dato la sua inclinazione del suo asse di rotazione è più di 90 gradi lo si vede bene da questa immagine Giove Giove per esempio ha un asse di rotazione su se stesso che è quasi parallelo al piano di rivoluzione Saturno e Nettuno hanno un'inclinazione di poco insomma 26-28 gradi ma Urano come vedete addirittura ha un un asse di rotazione che è praticamente quasi parallelo al piano di rotazione attorno al Sole per cui praticamente rotola mentre gli altri si muovono e girano questo anche lui gira ma come rotolando è una curiosità probabilmente dipende da come si è formato o da che colpi possa aver preso durante i primi i primi passaggi cioè la prima formazione del sistema solare ecco oggi sappiamo che Urano ha 27 satelliti l'abbiamo scoperto con le sonde e sappiamo che ha un sistema di anelli come del resto anche Saturno e anche Giove e anche Nettuno sono stati contati 13 diciamo anelli ecco in queste immagini del Labol potete vederli come li vediamo da terra in anni differenti nel 2007 gli anelli erano praticamente perpendicolari cioè anzi paralleli alla nostra linea di vista ecco come è costituito Urano non è facile andare a indagare un gigante di questo genere bisogna fare solo dei conti teorici e fino ad ora si è ritenuto che Urano abbia un nucleo al centro un nucleo costituito da ferro e silicio quindi un nucleo roccioso poi c'è una parte intermedia chiamata mantello dello spessore di 10.500 km che contiene ghiaccio d'acqua ammoniaca e metano mentre la parte più esterna quella che noi potremmo chiamare atmosfera anche se qui parliamo di 7.500 km è costituita di idrogeno molecolare di elio e di ammoniaca recentemente uno studioso della NASA ha fatto ulteriori calcoli in laboratorio anche simulazioni e sarebbe arrivato alla conclusione che il nucleo non è roccioso ma è costituito di ghiaccio d'acqua ammoniaca e isopropanolo quindi un misto di queste cose qui è un certo William Hubbard ecco ultima cosa su Urano va considerato come gigante ghiacciato viene considerato un gigante ghiacciato assieme a Nettuno a differenza di Giove e Saturno perché lui è composto principalmente di acqua abbiamo visto metano e ammoniaca e ha solo un 20% di idrogeno mentre Giove e Saturno hanno una grossa quantità di idrogeno che supera il 90% torniamo al nostro William Herschel allora accetta abbiamo detto la proposta del re che appunto gli conferisce uno stipendio annuale di 200 sterline gli dà anche 2000 sterline che quindi sono pari a 10 anni di stipendio per la costruzione di un grande telescopio che verrà messo ecco però la condizione è che lui si debba trasferire nei pressi del castello di Windsor dove ha normalmente sede la la monarchia britannica quindi lui e sua sorella da Slow si trasfer perdon da Bath si trasferiscono ad Acet e poi qualche anno più tardi si trasferiranno a Slow ecco tra l'altro il re l'aveva fatto anche suo astronomo personale la carica si chiamava astronomo del re cioè lui trasferendosi vicino al castello di Windsor era a disposizione del re e soprattutto dei suoi ospiti che magari venivano intrattenuti proprio da William Herschel a osservare il cielo bene i famosi 2000 e 2000 sterline vengono impiegate per costruire questo grande telescopio è un riflettore quindi un telescopio a specchi da 126 centimetri di diametro quindi più di un metro con una lunghezza focale di 12 metri quindi questo tubo che era lungo praticamente oltre i 12 metri vedete tutta quella incastellatura doveva proprio servire per per movimentare il telescopio e permettergli di puntare qualunque oggetto del cielo la costruzione inizia nel 1785 poi terminerà nel 1789 intanto ritornando all'81 quando viene scoperto Urano Herschel comincia ad avere fama come astronomo giustamente e viene eletto membro della Royal Society a Londra una prestigiosa accademia che era stata fondata nel 1660 proprio il giorno di questa sua elezione a membro un suo amico un certo William Watson gli presenta una coppia del nuovo catalogo delle nebulose e degli ammassi di stelle che era stato pubblicato proprio quell'anno da Charles Messier un famoso astronomo del tempo in Francia cosa cosa conteneva questo catalogo un centinaio di oggetti che noi chiamiamo del cielo profondo cioè oggetti nebulari cioè nebulose oppure ammassi stellari questa cosa qui insomma lo inorgolisce lo sprona a inventarsi cioè a cominciare anche lui a cercare questi oggetti Messier ne ha trovati cento io ne troverò di più però c'è un però innanzitutto lui continua la sua indagine come abbiamo visto prima sulle stelle doppie però se vuole indagare gli oggetti del cielo profondo in particolare le nebulose c'è un problema gli specchi di allora erano poco riflettenti questo che vedete è lo specchio originale del famoso telescopio che verrà costruito e finito nell'89 quello da 126 cm vedete che la riflettività è piuttosto bassa comparata alla riflettività di uno specchio odierno insomma e quindi visto che non ci sono mezzi per poterlo aumentare questa questa riflettività si inventa una cosa si inventa di modificare lo schema classico del telescopio di Newton fino ad allora i telescopi a specchio seguivano la configurazione di Newton ancora oggi noi la usiamo moltissimo che prevede praticamente un tubo che contiene un specchio principale parabolico che prende la luce da sinistra quindi la luce dell'oggetto che si vuole osservare questo specchio parabolico la rimanda in uno specchietto che si chiama specchietto secondario piano il quale la rimanda all'esterno di 90 gradi dove l'astronomo metterà i suoi oculari per osservare l'oggetto quindi il fuoco viene mandato all'esterno il fuoco dell'immagine bene lui vuole evitare questo doppio passaggio di specchi perché gli specchi sono poco riflettenti per cui si inventa questa configurazione che poi verrà chiamata hercelliana praticamente lui piega il piega lo specchio principale e rimanda l'immagine direttamente all'esterno senza questo doppio passaggio naturalmente questa configurazione ha dei limiti nel senso che se la usassimo per osservare la luna o i pianeti o comunque o stelle doppie dove è richiesta una precisione d'immagine questa configurazione non la potrebbe dare ma per il suo scopo che è solo quello di raccogliere la luce di questi deboli oggetti di queste debole nebulose va benissimo anche se poi l'immagine non sarà perfetta tanto lui deve solo individuare questi oggetti e questo gli darà un vantaggio quindi dall'agosto del 1782 inizia questa indagine degli oggetti del cielo profondo che gli ha così gli ha sollecitato il suo amico dandogli il catalogo di Messier ecco dopo un anno e mezzo scopre mille oggetti e li pubblicherà poi più tardi nell'86 nell'89 pubblica un secondo catalogo con altri mille oggetti e gli ultimi 500 verranno pubblicati anche loro nel 1802 totale 2500 oggetti è stato un bel un bel successo insomma ha voluto superare Messier alla grande insomma ecco ne vediamo qualcuno giusto per così per ricordarlo insomma la scoperta la prima scoperta è stata quella dell'82 7 settembre quando scopre questa nebulosità che oggi noi chiamiamo nebulosa Saturno perché ha questa configurazione un po' stirata sembra un po' di vedere gli anelli di Saturno in realtà lui non si era accorto di questa di questa forma come dicevo il suo telescopio era un po' impreciso era molto potente come luce ma poco preciso come definizione e niente quindi questo nome verrà dato da Lord Rosse nel secolo successivo quando grazie a dei telescopi più grandi potrà risolvere al meglio questa cosa ecco questa cosa cos'è è praticamente l'evoluzione di una stella come il sole l'evoluzione finale quindi praticamente quella che vedete al centro è una stella nana bianca il sole il nostro sole quando sarà ora farà la stessa fine si diventerà una gigante rossa dopodiché il mantello esterno della gigante rossa verrà si perderà nello spazio questa nebulosità e al centro rimarrà una stella molto densa e molto calda chiamata nana bianca ecco qui è come la vediamo per esempio col telescopio spaziale è un gran bello oggetto siamo nella costellazione dell'acquario altra scoperta dell'84 in questa zona siamo nell'unicorno scopre un un ammasso di stelle ce n'è una ventina che hanno una strana forma questo hanno una strana forma a triangolo e qui successivamente poi verrà verrà chiamate le stelle questo ammasso verrà chiamato l'albero di Natale ecco lo possiamo vedere in questa bella foto a colori di Stefano ci fa vedere quello che non poteva vedere Hershel chiaramente grazie alla fotografia astronomica oggi si possono mettere in evidenza queste cose praticamente una grande nebulosa fatta di idrogeno ionizzato dentro la quale si stanno formando nuove stelle e le stelle dell'albero di Natale sono proprio stelle neonate quindi stelle giovani ecco sul vertice di questo albero di Natale che è questo sul vertice c'è un altro triangolino una toppa scura che chiamiamo nebulosa cono anche lì c'è un addensamento di quella materia che sta generando nuove stelle lo vediamo col telescopio spaziale la punta di questa di questa toppa dove è chiara la presenza di nuove stelle scoperta del 7 febbraio 1785 nella costellazione del Corvo trova questa macchia indefinita che noi oggi chiamiamo galassie antenne però allora il concetto di galassia non esisteva cioè tutte queste nebulosità venivano chiamate nebulose bisognerà arrivare al 1900 per capire la differenza tra una nebulosa e una galassia ecco fotografata da un buon astrofotografo in questo caso è Lorenzo Siciliano che ha operato dai cieli molto più bui della Basilicata questo bell'oggetto ci si presenta intanto con le sue antenne che gli danno il nome ecco e vediamo un po' di capire cos'è sono praticamente due galassie in collisione lo vediamo bene dalla fotografia del telescopio spaziale che ci mostra i due nuclei questo e questo di queste due galassie che si stanno scontrando e questa macchia rossa è praticamente una gran quantità di idrogeno che si sta scontrando si sta addensando e dove lì la produzione di nuove stelle si sta velocizzando nel 1785 siamo sempre nella costellazione dell'unicorno ecco voi vedete questo ammasso che si chiama M50 quindi l'aveva scoperto Messier M sta per Messier lui trova altri due oggetti uno qui vedete questo piccolo ammasso che oggi noi chiamiamo NGC 23 53 e poi ancora quest'altro più piccolo che oggi noi chiamiamo 23 43 ecco vicino a questo secondo ammasso non so se riuscite a intuire c'è una leggera nebulosità quindi è quello che probabilmente Hershel è riuscito a vedere ecco fotografata questa zona con questa nebulosità ecco fatta sempre dal nostro Stefano vediamo quella che oggi viene chiamata la nebulosa gabbiano è un'altra nebulosa costituita da questo idrogeno ionizzato che ci dà questa colorazione rossa e che sta formando nuove stelle qui siamo mi sembra a 3700 se ricordo bene anni luce di distanza e le dimensioni di queste ali del gabbiano sono praticamente più di 100 anni luce quindi sono zone vastissime dove oggi si formano nuove stelle scoperta del 17 gennaio 1787 nella costellazione dei gemelli scopre quest'altra cosina che si assomiglia molto alla nebulosa Saturno che abbiamo visto prima oggi viene chiamata nebulosa esquimese perché sembra di vedere al centro una faccia e sopra un cappuccio di pelo altri astronomi preferiscono chiamarla la clown la clown il pagliaccio perché sembra di vedere una faccia con un naso arrotondato bene comunque la si voglia chiamare questa è un'altra nebulosa che rappresenta la fine di una stella come il sole quindi vedete la stella nana bianca al centro e tutta la massa esterna della stella che se ne va nello spazio qui la vediamo ben fotografata dal telescopio spaziale con la nana bianca molto evidente al centro ecco queste nebulose questa e anche la Saturno e tante altre che conosciamo sono state chiamate nebulose planetarie proprio da William Herschel le ha definite così scrivendo a un astronomo francese la Land gli dice io questi oggetti ne ho già scoperti 4 o 5 e li chiamo planetari li chiamo planetari perché visti al telescopio hanno le dimensioni angolari dei pianeti cioè lui non era convinto non pensava che questi fossero pianeti però si presentavano come macchioline ben evidenziate tonde per lo più e con però una stella al centro si rendeva conto che c'è una stella al centro e quindi le ha chiamate così ancora oggi vengono chiamate nebulose planetarie anche se non hanno niente di planetario ancora una scopertina non male questa siamo nella costellazione di Cassiopea Herschel non Herschel Messier aveva già trovato questo ammasso ben evidente M52 Herschel si accorge col suo telescopio più potente che qui c'è una nebulosità inizialmente c'è una specie di bolla tant'è che verrà chiamata nebulosa bolla inizialmente lui pensa sia una nebulosa planetaria solo in tempi recenti si è capito che non è non si tratta di nebulosa planetaria ma è una nebulosa immersa immersa proprio in una nebulosità più grande quindi questa è chiaramente una nebulosa del tipo diffuso quelle che producono nuove stelle lì dove c'è la bolla si è formata una nuova stella che sta soffiando il suo vento stellare e ha prodotto questa specie di bolla di sapone non sappiamo quanto durerà prima o poi si dissolverà ecco tra l'altro questa è una bella foto fatta dal nostro osservatorio la nebulosa bolla fotografata dal nostro Sergio Bulla e questa è la bolla fotografata invece dal telescopio spaziale molto bella concludo con questa immagine che è carissima a tutti noi astrofili una zona di cielo nel Cigno proprio sopra la stella Deneb c'è questa bellissima concentrazione di idrogeno che solo i mezzi moderni della fotografia riescono a mettere in evidenza comunque Herschel l'aveva scoperta anche se vi dico al telescopio è dura vederla ad occhio si tratta delle nebulose nordamerica quella di sinistra ha preso questo nome perché sembra di vedere il continente nordamericano col golfo del messico e con il centro america diciamo e poi la parte di destra gli astronomi hanno voluto vederci il becco di un pellicano qui l'occhio e la testa un po' aguzza così la fantasia degli astronomi comunque è una zona che ci è particolarmente cara bene Herschel non si è limitato a trovare questi 2500 oggetti ma ha fatto altri lavori cioè ha studiato ha provato a studiare a fondo le stelle della via Lattea scoprendo che questa via Lattea che a noi appare come una striscia quando la guardiamo in cielo come la vedete adesso in realtà si estende nella terza dimensione come un disco un disco lui ha calcolato con un diametro 5 volte più dello spessore in poche parole se noi avessimo una superastronave che ci porta là in alto la potremmo vedere così questa è la nostra galassia questo è un disegno chiaramente quindi una galassia a spirale barrata con questa barra dalla quale si dipartono dei rami di spirale comunque questa configurazione lui non l'aveva capita aveva però capito che era un disco ha sbagliato le misure perché in realtà oggi sappiamo che il rapporto è 1 a 50 cioè il diametro è 50 volte lo spessore lui era arrivato a 1 a 5 però è stato un primo inizio per cominciare a capire che cos'era questa benedetta via Lattea che come sappiamo è la nostra galassia questa considerazione lui l'ha scritta in questo libro On the Construction of the Heavens che è stato pubblicato nel 1785 quindi gli va riconosciuta questa scoperta altra scoperta interessante è stata quella di capire che noi il sistema solare si sta muovendo verso la costellazione di Ercole lui si era accorto che le stelle in un punto ipotetico lì nella costellazione di Ercole si diradavano praticamente si allontanavano nel tempo ovviamente è frutto di osservazione di qualche anno di lavoro vedeva che c'era uno spostamento leggerissimo ma lui se n'era accorto da un punto in poche parole lui noi oggi quel punto lo chiamiamo apice solare è proprio queste stelle si diradano per effetto del nostro movimento verso quella zona di cielo è un po' come quando guardiamo l'inizio di Guerra Stellaria che si vedono tutte le stelle che si allontanano ecco lui è riuscito a capire questa cosa tra l'altro confortato dal fatto che a 180 gradi di distanza osservava un altro punto nelle quali le stelle si contraevano quindi era proprio dovuto al nostro movimento in mezzo alla galassia oggi sappiamo che questo movimento è dovuto al fatto che noi ruotiamo attorno a un enorme buco nero che c'è al centro della nostra galassia un buco nero super massiccio che praticamente questo movimento ci fa ruotare attorno a questo baricentro se non ci fosse questo movimento prima o poi il buco nero ci indiottirebbe perché la gravità si estende anche lontano insomma ma questo movimento e tutta la galassia praticamente ruota attorno a questo a questo baricentro bene quindi un'altra un'altra scoperta importante nel 1786 fratello e sorella Herschel si trasferiscono in questa bella questa bella villa se vogliamo chiamarla denominata allora la Grove House la casa degli Olmi era di proprietà di un certo Baldwin un ricco un ricco del posto insomma probabilmente gli era dato in affitto non ho trovato tracce di questo se era se era gratis o se era in affitto probabilmente in affitto ecco nel retro c'era un cottage che è stato adibito proprio a osservatorio astronomico ecco lui serviva un posto dove poter mettere i suoi telescopi e infatti poi questa questa costruzione verrà ridenominata Observatory House ecco da questo giardino praticamente dal retro di questa casa nel 1787 l'11 gennaio scopre non contento di aver scoperto Urano scopre due satelliti di Urano quindi l'aumentata potenza dei suoi telescopi che man mano si era costruito nel tempo gli permettono di osservare due dei 27 satelliti che oggi conosciamo il nome di Titania Oberon è stato poi dato dal figlio dal figlio John più avanti a questi due satelliti l'8 maggio del 1788 il nostro William decise decide di sposarsi o meglio questa signora la Mary Pitt Baldwin era la figlia del suo padrone di casa la la Baldwin però era una vedova aveva sposato precedentemente un certo John Pitt un ricco mercante di Londra ma era rimasta vedova nell'86 due anni dopo i due evidentemente si innamorano e si sposano questo creerà una tensione micidiale con la Caroline però sono i casi della vita ecco ecco tra l'altro grazie a questo matrimonio lui riceve in dote proprio l'Observatory House quindi ha fatto anche un bel affare sotto un certo aspetto pensate che questa casa purtroppo è rimasta di proprietà della famiglia Herschel fino al 1957 l'ultima discendente degli Herschel una certa Margaret Herschel muore e non ha eredi quindi la casa viene passata di mano e poco dopo viene abbattuta per fare un complesso nuovo insomma moderno è stato veramente uno scempio in questo caso ecco allora avevamo parlato del famoso telescopio da 126 centimetri che ha voluto il re e che è stato completato nel 1789 2000 sterline ben spese ben spese perché perché nel giorno stesso dell'inaugurazione quella che gli astronomi chiamano la prima luce quindi la sera stessa in cui Herschel pone il suo occhio all'oculare di questo telescopio scopre il sesto satellite di di Saturno Encelado che è stato chiamato dopo e quindi già è un primo successo insomma questo grande telescopio ha subito offerto le sue credenziali insomma Encelado è un è un satellite di Saturno il sesto per dimensioni il quattordicesimo per distanza dal pianeta molto interessante lo sappiamo questo interesse ce l'abbiamo da quando la sonda Cassini qualche anno fa ha rilevato quello che vedete in fotografia dei geyser geyser d'acqua come cavolo fanno dei geyser d'acqua a esserci a meno 200 gradi di temperatura è un controsenso gli astronomi spiegano questo fenomeno così Encelado è completamente coperto di ghiaccio anche per chilometri e chilometri però ha un nel suo movimento attorno a Saturno subisce delle interazioni mareali proprio perché si muove su un'orbita ellittica non circolare quindi in certi momenti va più forte in certi momenti viene stirato praticamente dal pianeta più grande Saturno questo stiramento produce un effetto a fisarmonica che crea del calore all'interno quindi certamente le cose devono stare in questo modo si è accumulato tanto calore all'interno da liquefare un po' il ghiaccio sottostante questo ghiaccio con questa temperatura va in pressione e evidentemente trova dei crepacci crepacci che certamente si sono prodotti anche loro per questi effetti mareali e fa uscire in superficie questi geyser una scoperta molto interessante ancora più interessante però è quando la Cassini fa un'indagine spettroscopica di questi geyser e ci trova delle molecole organiche di per sé non è una scoperta assoluta nel senso che oggi sappiamo che anche le comete per esempio hanno delle molecole organiche ma qui sono state trovate delle molecole con fino a 15 atomi di carbonio quindi molecole organiche di una certa complessità in definitiva gli astronomi ipotizzano che possa esistere una forma di vita seppur primitiva seppur molto molto semplice ma che possa esserci qualcosa nei ghiacci sottostanti di Encelado la ricerca sarà ancora lunga perché è difficile andare a indagare la sotto ma è comunque una cosa molto intrigante altra scoperta di Herschel il 17 settembre 1789 scopre il settimo satellite satellite di Saturno in ordine di dimensioni verrà poi chiamato Mimas ecco qui lo vediamo come l'ha fotografato per la prima volta la sonda Voyager nel 1980 è un corpo di solo 400 chilometri di diametro con un bel cratere questo di 140 chilometri di impatto è un cratere di 140 chilometri di diametro è un cratere da impatto e come si vede bene da questo picco centrale quindi lì qualche corpo all'origine del sistema solare è andato a sbattere questo cratere è stato intitolato giustamente a William Herschel ecco il 7 marzo del 92 nasce il figlio John Herschel ne parleremo fra poco il 24 dicembre 1800 la vigilia di Natale molti preparano preparano il pranzo della cena della vigilia lui non ha meglio da fare che a fare un esperimento nel pomeriggio evidentemente quando c'è ancora il sole fa passare un raggio di luce del sole attraverso un prisma questo prisma allarga lo spettro della luce solare nell'arcobaleno quindi nei vari lo scompone nei vari colori l'intendimento di Herschel è quello di misurare le differenti temperature di ciascun colore e misura appunto parte dal violetto arriva fino al rosso dopodiché non si sa se per caso o per volutamente mette questi termometri oltre la linea del rosso e scopre che anche lì la temperatura sale in poche parole aveva scoperto una radiazione invisibile che oggi chiamiamo raggi infrarossi nel 1816 viene fatto baronetto dalla regina vittoria quindi diventa Sir Frederick William Herschel nel 20 assieme al figlio fondano la Royal Astronomical Society che ha ancora sede a Londra vedete a destra la sede attuale il cui motto latino è qui quid nit et notandum qualunque cosa brilli merita di essere osservata muore il 25 agosto del 1822 a St. Lawrence cioè muore a Slough a Slough e viene sepolto in questa chiesa St. Lawrence di Upton dove si era anche già sposato niente questa è un po' la conclusione di questa vita un po' particolare insomma parte da musicista per diventare uno dei più famosi astronomi dell'epoca diciamo qualcosa anche su Caroline la sua fida sorella anche lei nata ovviamente ad Hannover il 16 marzo del 1750 quindi di 12 anni più giovane di William nasce in questa famiglia dove il padre si è veramente portato all'insegnamento vuole che i suoi figli imparino tante cose la madre è un po' conservatrice e soprattutto sulle femmine dobbiamo considerare anche l'epoca preferisce che non ci sia troppa istruzione ma che si lavori sodo per poter portare avanti la casa per poter fare tante cose tra l'altro lei da bambina a 10 anni prende il tifo e questo le produrrà una mancata crescita quindi pare che si è rimasta alta 130 centimetri quindi molto piccola erano tutti più piccoli all'epoca ecco bassa 130 centimetri niente quindi la madre ancora di più crede che non abbia chance di matrimonio per il suo aspetto e spinge proprio affinché diventi governante di casa al fratello William questa cosa non sta tanto bene e infatti qualche anno dopo quando lui avrà 34 anni rientrerà in famiglia per così forse non so per il Natale non so e decide di portare con sé la sorella in Inghilterra naturalmente dovrà pagare una cifra alla madre perché gli porta via una serva in poche parole vabbè i tempi erano quelli ecco questa donna viene presa un po' sotto le ali di William fratello maggiore che gli insegna anzitutto l'inglese lei a quel punto era poco istruita non per colpa sua ma era così gli insegna molto bene l'inglese gli insegna la matematica e gli fa ore e ore di prove di canto perché aveva una bella voce magari non aveva il bel aspetto ma aveva una bella voce e niente addirittura arriva ad essere una soprano apprezzata sicuramente si ha notizie che si è esibita come soprano nel 1777 nel Messia di Endel e poi pare che abbia fatto anche altri concerti niente invece a livello astronomico lei ha dato forse il meglio perché sempre appunto seguendo suo fratello in questa nuova passione a modo sarà presente quando verrà scoperto Urano e soprattutto sarà una fida come dire raccoglitrice di dati che suo fratello delle osservazioni del fratello sarà molto brava anche nel catalogare e nel mettere un po' di ordine insomma in queste osservazioni appena nell'82 appena dopo la scoperta di Urano le regala un suo telescopio di modo che lei possa osservare il cielo autonomamente quindi lo fa con un telescopio che gli ha regalato il fratello e lo fa anche con gli strumenti del fratello quando sono liberi insomma ecco quindi fa qualche scoperta sua proprio indipendente per esempio la galassia la famosa galassia NGC 2,5,3 che noi astrofili diciamo tentiamo di fotografare è una galassia molto bassa qui da noi arriva a 20 gradi massimi di altezza sull'orizzonte pensate dall'Inghilterra che sono 6 gradi meno quindi cioè 6 gradi più quindi si abbassa ancora di più e però è riuscita a scovare questa nebulosità come dico allora non si sapeva che era una galassia ma comunque la scoperta è sua poi qui siamo nel mi sembra in Cassiopea si in Cassiopea scopre questo altro ammasso dove vedete c'è anche una parte di nebulosità che ha prodotto queste stelle questo ammasso viene chiamato ammasso della barca vela e poi scopre nell'87 un altro ammasso di stelle immerso in questa nebulosa che oggi è facile vedere lei sicuramente avrà visto ben poco oggi noi le chiamiamo la nebulosa mago è un'altra di quelle galassie ricche di idrogeno che producono nuove stelle questa immagine è stata ottenuta con con una elaborazione in falsi colori per cui dove vedete giallo dovete immaginare che è rosso che è idrogeno e vedete tutte queste oscurità è materia che si sta addensando per formare nuove stelle la nostra Caroline scopre addirittura sei comete non è poco vuol dire che lei passava molto molto tempo al telescopio quindi dall'86 al 97 praticamente riesce a scoprire ben sei comete ecco nel 28 prende una medaglia d'oro dalla Royal Astronomical Society per i suoi studi e le sue scoperte in particolare per le comete pare che sia stata la prima donna probabilmente a scoprire una cometa nel 35 diventa membro onorario della Royal Astronomical Society quindi l'associazione è fatta da suo fratello e da suo nipote e sarà la prima donna a essere iscritta a questo consesso nel 38 diventa membro della Royal Irish Academy quindi l'accademia irlandese e nel 46 in patria il re di Prussia le conferisce la medaglia d'oro delle scienze quindi insomma la sua attività anche se più ridotta rispetto a quella del fratello è stata comunque riconosciuta a livello internazionale muore il 9 gennaio del 48 all'età di 98 anni quindi la questione del tifo non l'ha danneggiata troppo insomma ecco diciamo abbiamo ancora 5 minuti giusto mi sono mi sono soffermato moltissimo su William che è il mio idolo però vediamo un attimino qualcosa anche del figlio John Frederick William Herschel che nasce come abbiamo visto a Slow nella casa degli Olmi nel 92 ecco la sua istruzione da ragazzo ha avuto qualche problema perché era stato messo in un college vicino a casa Letton College ma è stato vittima di qualche episodio di bullismo sua madre un giorno lo vede fare a pugni con un ragazzo più grande alla fine lo ritirano la famiglia lo ritira da questo college lo mettono in un'altra struttura privata meno prestigiosa però gli affiancano un certo mister Rogers che gli dà delle lezioni private di matematica per prepararlo bene all'università lui si iscrive nel 1809 al St. John College di Cambridge per raggiungere la laurea in matematica quattro anni più tardi il padre William riceve una lettera dal rettore nella quale si evince che John Herschel si è laureato come miglior studente di matematica dell'anno quindi sicuramente aveva delle doti non solo l'insegnamento però a questo punto il padre William vorrebbe che lui intraprendesse la carriera anche lui la carriera scientifica astronomica o anche non astronomica però lui insomma non è ancora maturo su quello così decide di praticamente di fare no decide di iscriversi alla facoltà di giurisprudenza ha in mente di diventare avvocato e niente si iscrive rimane lì un anno e mezzo ma non riesce poi compice anche qualche malattia non riesce ad andare avanti insomma si ritira da questa seconda laurea e torna al college che l'aveva laureato in matematica per fare l'insegnante di matematica quindi il suo salario è quello il padre comincia a perdere le speranze insomma che lui voglia veramente fare lo scienziato o almeno l'ecclesiastico visto che era molto gettonato questo questa cosa ai tempi e niente avranno lunghe discussioni poi un certo punto nel 1816 d'estate se ne vanno tutti la famiglia Herschel al mare a Dolish nel sud dell'Inghilterra e al ritorno da questa vacanza inaspettatamente John comunica a suo padre che vuol fare l'astronomo cos'è il colpo di cos'è il colpo di genio allora il padre che a quel punto cominciava ad essere anche su di età ce la mette tutta per insegnargli tutto quello che lui aveva aveva prodotto insomma insegnargli l'uso del telescopio mettono a punto un telescopio da 460 mm di diametro e lo stesso John suggerisce alcune modifiche insomma per renderlo più più pratico ecco alla fine come sappiamo il padre morirà nel 22 fra il 21 e il 23 lui si mette proprio ad osservare il cielo assieme a un amico proprio con l'intento di insomma di imparare il mestiere nel 22 pubblica un primo saggio un nuovo metodo per calcolare le occultazioni delle stelle fisse un saggio così e lo pubblica alla Royal Society ma due anni più tardi invece ne pubblica uno più interessante l'osservazione di 380 stelle doppie che lui aveva catalogato quindi proseguiva l'opera del padre tra l'altro questo lavoro gli varrà un premio dalla Francia da Parigi e una medaglia d'oro dalla Royal Society nel 26 ecco infatti nel 26 prende la gold medal della Royal Society proprio per questo lavoro allora il padre abbiamo visto muore nel 22 nel 33 muore anche la madre la Mary Pitt Baldwin e lui decide di partire per il Sudafrica ha appena sposato questa bella signora la Margaret Brody Stewart hanno già tre figli in quattro anni di matrimonio hanno già tre figli e vuol partire per il Sudafrica per indagare i cieli dell'emisfero sud dei cieli australi quindi arrivano il capo di Buona Speranza e qui effettivamente farà molto lavoro in 4-5 anni riuscirà a osservare moltissime stelle si parla di 70.000 stelle catalogate da John Herschel osserverà moltissimi oggetti del cielo profondo credo che arrivi a qualcosa come 5.000 oggetti effettivamente fa un lavoro veramente molto molto vasto che poi verrà pubblicato nel 1847 tutte le sue osservazioni perché lui ha raccolto tanti dati poi non ha potuto catalogarli subito e lo ha fatto poi a rientro comunque durante il suo soggiorni Sudafrica ha modo di osservare la cometa di Halley nel passaggio del 1835 e riesce a capire che il movimento di questa cometa è rallentato dal vento solare in poche parole capisce che le comete e tutti gli oggetti più deboli come gli asteroidi vengono influenzati dalla forza dalla debole forza del vento solare è un concetto che lui per primo vede e poi verrà confermato dall'astronomia seguente insomma e poi anche modo di osservare la grande nube di Magellano che come sappiamo oggi è una galassia probabilmente satellite della Via Latte è una piccola galassia ma è una galassia fatta di stelle e lui effettivamente riesce a capire che è fatta di stelle è un primo passo per cominciare a discernere le galassie dalle nebulose poi come vi dicevo il concetto poi verrà definitivamente risolto da Edwin Hubble nell'ultima conferenza ha anche modo di vedere la grande eruzione di Eta Carine Eta Carine è un sistema qui lo vediamo fotografato dal telescopio spaziale è una stella binaria che ha una forte variabilità di luminosità vedete che produce addirittura delle enormi masse questa configurazione viene chiamata omuncolo e ha dei picchi di luminosità e poi degli abbassamenti di velocità di luminosità nel tempo e quando lui era lì nel 37 si stava avviando al massimo pensate che allora è diventata essere la stella la seconda stella più luminosa del cielo dopo Sirio precedentemente vi rubo ancora tre minuti precedentemente nel 1830 prima di partire per il Sudafrica aveva pubblicato questo saggio discorso preliminare allo studio della filosofia naturale era una sorta di vademecum per era una sorta di vademecum e di norme per da seguire se si vuole studiare la natura che sia natura celeste o natura terrestre non importa una metodologia di lavoro questa pubblicazione aveva influenzato fortemente il famoso naturalista Charles Darwin che era più giovane di Herschel e l'aveva letto da studenti in poche parole proprio si era innamorato di questo libro al ritorno dal suo viaggio famoso viaggio Darwin gli capita proprio di arrivare in Sudafrica siamo nel 36 1836 e il giovane Charles Darwin vuole conoscere il grande e già famoso John Herschel avranno una cena proprio in questa casa la Feldhausen Observatory dove viveva la famiglia di John Herschel ecco John Herschel rientra poi in patria in Inghilterra nel 1838 subito viene nominato baronetto per i grandi successi a livello astronomico che ha ottenuto tra l'altro ci tornerà già con sei figli è partito con tre e ritorna con sei nel 39 però si interessa un po' anche di fotografia che era stata da poco inventata da Daguerre e lui se non fosse stato preso dall'astronomia poteva anche arrivarsi prima però ok lui gli piaceva molto la chimica e si era già un po' dato da fare in quel senso un giorno un suo amico un certo Fox Talbot va da lui dice io ho riprodotto quello che ha fatto Daguerre quindi ho riprodotto una fotografia però ho un problema io alla luce del sole si disgrega questa stampa si disgrega John Herschel va nel suo laboratorio tratta questo foglio con dell'iposolfito di sodio e glielo ridà perfettamente fissato in poche parole lui era già avanti su questa tecnologia aveva già scoperto tante cose e infatti viene considerato l'inventore del fissaggio attraverso l'iposolfito di sodio nel 49 pubblica questo libro Outline of Astronomy che è un successo editoriale perché è rivolto al pubblico generico quindi tutto il suo sapere in astronomia l'ha messo insomma proprio per il grande pubblico ecco alla fine della sua vita lui arriverà a 12 figli 12 figli si è dato da fare uno solo però prenderà la carriera di astronomo meglio meglio uno che niente è un certo Alexander Stuart Herschel che verso la fine dell'ottocento si occupa di spettroscopia delle comete quindi ha in qualche modo proseguito un po' la storia del nonno e del padre insomma niente finirà la sua vita l'11 maggio del 1871 a Collingwood carico di onori dice la storia perché effettivamente anche se forse io personalmente sono più appassionato della storia del padre però anche lui effettivamente ha dato tanto all'astronomia grazie per l'attenzione grazie grazie grazie